L'arte della razzeria. Stiamo parlando di uno degli esempi di artigianato artistico abruzzese più suggestivo nella già ricca tradizione della nostra regione. Arazzi da parete, realizzati con la tecnica del bassoliccio, da sapienti mani con una maniacale cura dei dettagli. Una tradizione che torna a vivere grazie all'iniziativa della razzeria Vestina 66, composto proprio da quelle giovani artigiane, oggi signore mature, che nonostante l'attività sia stata abbandonata alla fine degli anni 70, non hanno mai perso la passione. Perché non avevo lasciato contenta, ma l'inguore l'avevo lasciato la razzeria, perché si sa che questi lavori artistici che valgono tanto, ma ci vuole tanto tempo e non danno tanto risultato di guadagni. La razzeria conosco solo quella tradizionale praticamente, non mi sono più aggiornata, ma ho visto le nuove tecniche, non è che ci sono se vogliamo un arazzo classico. Le nuove tecniche vanno bene per delle stuoline, dei lavoretti da volanti, così diciamo. Invece l'arazzo che riproduce un'opera d'arte, un'artista, deve essere conforme a quel disegno per me, perché io ho realizzato Balla, ho realizzato Capogrossi e l'abbiamo fatto sempre con la solita tecnica, riproducendo in tutte le virgole, in tutte le cose, l'artista. E con la Di Martino anche la da Dazio, la Ridoffi, la Tartaglia, la Tonelli, la di Nicola e Anna Di Martino. E dietro la rinascita dell'antica tradizione, un progetto ampio che si è dotato anche di importanti collaborazioni come la DMC, la Sartoria di Penne e la Fondazione Menegaz, che ospiterà Castelbasso, l'Arazzo, dal prossimo 20 luglio. Maria Di Martino ha realizzato un'opera importante di uno degli artisti più bravi in Abruzzo, no? Sì, Giuseppe Stampone è un artista affermato, noi siamo andati a bussare alla sua porta perché volevamo riprendere, rimettere al centro le mani, rimettere al centro le persone, visto che quando si parla di arazzeria e si parla di penne, una arazzeria importantissima, spesso si parla di quelli che hanno avuto il ruolo di procacciatori d'affari, di comunque, sono figure maschili, ma in realtà le mani che fanno sono mani femminili. Il 20 luglio a Castelbasso, la Fondazione Menegaz inaugura il 20 luglio alle 6 e mezza questa mostra, con degli arazzi tutti molto diversi e noi in anteprima portiamo questo, così lo mostriamo, poi avremo modo di invitare il pubblico del paese e delle città limitrofe a vederlo.